Grazie a tutti. Ci troviamo in Veneto, in Valpolicella nello specifico e questa sera abbiamo un ritorno poiché la cantina della quale parleremo e degusteremo i suoi vini questa sera è stata già ospite a uno dei nostri eventi esattamente quattro anni fa. Pertanto in quattro anni di cose da raccontare ce ne saranno senza ombra di dubbio anche perché avremo dei vini diversi rispetto a quattro anni fa, questo anche a testimonianza di quanto siano cambiate le cose in questa cantina. A tenerci compagnia e a raccontarci la storia e la produzione della cantina di Giovanni Ederle, questo è il nome appunto della cantina ospite di questa sera, Manuel Sorrentino che è il responsabile commerciale e dell'ospitalità di Giovanni Ederle e della cantina. Giovanni Ederle a lui spetterà il compito di raccontarci non solo le peculiarità dei vini ma anche del territorio e delle uve che sono utilizzate per la produzione enologica di questa bella realtà veronese. Manuel Sorrentino, buonasera e intanto grazie per essere venuto a testimoniare di nuovo l'azienda e la cantina di Giovanni Ederle. Visto che sono passati quattro anni di cose nuove da raccontare, innegabilmente ne avremo tante e partirei proprio da questo, raccontando anche la storia della cantina di Giovanni Ederle, raccontare anche chi è evidentemente Giovanni Ederle e quello che è accaduto negli ultimi quattro anni. Buonasera e ringrazio per l'invito di nuovo, grazie a voi per averci invitato di nuovo. Giovanni Ederle, realtà piccola delle Torricelle, quindi siamo in una zona vicinissima alla città ma della zona della Valpolicella esattamente per quello che riguarda l'inizio della Valpolicella allargata che viene definita. Siamo la cantina più vicina alla città, quindi proprio sul crinale più vicino che affaccia sulla città di Verona e è una realtà piccolina, quindi parliamo di 4 ettari intorno alla casa che adesso ultimamente sono diventati 6 e sicuramente tutto in via di evoluzione. I vini sono cambiati, hanno preso la loro vera e propria identità, quindi la Valpolicella e dal 2008 quando tutto è iniziato di cose ne sono cambiate tante. La cantina che è ormai quasi pronta, quindi la cantina nuova e questi vigneti di Corvina, Corvinone, Rondinella che adesso più che mai sicuramente si stanno esprimendo al massimo sui vini della Valpolicella. E poi i bianchi, il Donna Francesca che stasera assaggeremo, questo vino molto particolare dedicato alla signora Francesca, la mamma, assaggeremo quest'annata 2012 che è sicuramente l'emblema e la migliore espressione di questo bianco di Giovanni. Quattro anni fa avevamo degustato dei vini diversi e portavano anche il nome poi dell'agriturismo dove si trova appunto l'azienda, la cantina e le vigne di Giovanni Ederle. Avevamo San Mattia, sia bianco sia rosso, poi ricordo il rubro del forte, vini che peraltro abbiamo anche recensito tempo fa, però questi vini non li troviamo più perché appunto hanno cambiato un po' identità in virtù della premessa che ha fatto sul territorio della Valpolicella. Vogliamo quindi ricordare il cambiamento di questi vini poiché si abbraccia l'intera produzione prevista dal disciplinare della Valpolicella. Esattamente perché dal 2016 esattamente l'intera proprietà è entrata a far parte di quelli che sono i disciplinari della denominazione, quindi della doc della Valpolicella dando la possibilità appunto di produrre Valpolicella. E quindi quelli che erano il San Mattia Rosso, il San Mattia Bianco, il rubro del forte hanno preso poi il nome vero e proprio della Valpolicella nonostante già comunque in passato erano già espressioni di territorio storico quindi della Valpolicella ma da quando fortunatamente finalmente è arrivata l'iscrizione, l'abbraccio della denominazione si è potuto iniziare quindi a quella che è la produzione di tutta la linea del Valpolicella quindi il San Mattia Rosso che ha preso poi le forme del Valpolicella, del Valpolicella Superiore col tempo poi è arrivato il ripasso, il rubro che era il grande, il rosso di struttura comunque importante di grande personalità che si è affiancato e che poi adesso è stato, prende parte solo e prende espressione come amarone amarone di OCG e poi con il tempo adesso anche stasera lo assaggeremo la prima annata imbottigliata è disponibile del reciotto della Valpolicella di OCG quindi anche questo grandissimo emblema di vino dolce di grande eleganza, molto interessante. Vino la Valpolicella che quindi prende questo ventaglio di 5 vini il Valpolicella il più semplice è quello che viene denominato il Valpolicella Doc il vino quasi da tutti i giorni, il più semplice, un'espressione molto semplice forse la più veritiera anche tante volte del territorio perché Beverino che trasmette quella che è la vera sensazione di queste uve scariche in colore, molto semplici, delicate ma pieni di frutto, pieno di fiore quindi un Valpolicella lavorato in acciaio, lavorato in maniera molto semplice in modo che rimanga Beverino fresco, croccante, versatile, quasi da tutti i giorni un Valpolicella superiore che si trasforma, prende l'eleganza, prende la struttura con un anno in botte, il rovere francese che interviene con anche il Valpolicella superiore la possibilità di fare appassimento su questo vino quindi dandogli rotondità, dandogli più eleganza, magari un po' più di personalità un vino che a noi piace tantissimo, tantissimo dopodiché andando su in scala il Valpolicella ripasso che è arrivato nel 2015 vino di bassa produzione e quindi questa tecnica singolare interessantissima del ripasso, quindi del ripassaggio delle vinacce dell'amarone sul Valpolicella, sul più semplice quindi dando un vino di struttura, di pronta beva allo stesso momento quindi un vino caldo, molto interessante a livello aromatico, a livello organolettico e poi l'amarone Reciotto sicuramente la massima espressione dei vini gli appassimenti, gli affinamenti, gli zuccheri dove non ci sono gli zuccheri, l'amarone invece è cosa che il Reciotto ha assolutamente torneremo senz'altro fra poco proprio sulle caratteristiche specifiche dei cinque vini che degusteremo questa sera voi però avete fatto una scelta per quanto riguarda i rossi poi parleremo anche dell'unico bianco che è estremamente particolare anche nella sua composizione per quanto riguarda la scelta dei rossi la vostra scelta in vigna e in cantina sembra piuttosto precisa poiché troviamo oggi tre uve e con queste tre sono prodotti tutti i vini rossi di Giovanni Ederle in particolare Corvina e Corvinone Corvinone diciamo sta ottenendo una nuova vita soprattutto negli anni recenti anche dovuto alla confusione che si era creata tra Corvina e Corvinone e poi Rondinella è sempre meno relegata voi non la usate per esempio la Molinara che è sempre meno parte dei vini di questo territorio c'è una ragione evidentemente mi preme però e approfitto quindi per fare questa distinzione se magari ci aiuta a capire cos'è la Corvina cos'è il Corvinone e cosa differenzia queste due varietà sono due varietà che probabilmente hanno preso un nome simile molto vicino storicamente perché a guardarle sembrano effettivamente molto molto simili il Corvinone che ha questo grappolo sicuramente più grande questa foglia più grande è una pianta più grande quindi Corvinone in quel senso là si è visto studi recenti dicono che la Corvina e il Corvinone in realtà geneticamente sono diverse però territorio vuole che in realtà siano quasi complementari siano quasi come due gemelle che devono sempre stare insieme di fatto il disciplinare non permette la separazione in blend della Corvina e del Corvinone che devono sempre essere in un minimo percentuale la Corvina più che il Corvinone è un po' descritta come la regina delle uve della Valpolicella quindi quella che dona il profilo aromatico principale quindi le tonalità della marasca, la ciliegia, questo fiore, questa rosa, questa viola che vengono fuori nei vini più semplici che poi tendono ad evolvere sempre di più il Corvinone sicuramente meno preponderante a livello organolettico della Corvina ma scheletrico quindi lui ha bisogno assolutamente la Corvina ha bisogno del Corvinone tanto quanto il Corvinone ha bisogno della Corvina il Corvinone è un po' più ricco in colore rispetto alla Corvina che è molto scarico quindi molto magra però il Corvinone in quel caso esatto la esalta probabilmente si esaltano a vicenda molto interessanti queste due uve la rondinella, tanto importante anche nei nostri vini che dona molte volte queste tonalità balsamiche le spezie che quindi tende a creare questi bouquet molto più eclettici, molto più interessanti, più profondi ma belle tutte e tre noi adesso stiamo lavorando con queste tre uve su un 50% Corvina, un 30% di Corvinone un 20% di rondinella per tutti e cinque i vini anche questa cosa è interessante quindi anche la capire come il territorio le esprime e come poi noi in personalità riusciamo ad esprimerle con un ventaglio di cinque vini diversi la tecnica, i processi che sicuramente sono molto importanti in quel caso là Nei vostri vigneti troviamo, fatta eccezione per lo Chardonnay che entra nel primo vino bianco del quale ovviamente parleremo troviamo solo varietà tipicamente veronesi esatto perché comunque anche per quanto riguarda lo Chardonnay varietà internazionale che è presente in azienda la Garganega, l'altra uva bianca uva tipica veronese che sicuramente per quanto riguarda la Valpolicella non è la prima uva però Garganega sicuramente come la Corvina è sicuramente la versione bianca che esprime più di tutti il territorio del veronese questa uva bianca che noi abbiamo blendato con lo Chardonnay per andare a creare il Donna Francesca quindi questo vino che avevamo accennato all'inizio di grande struttura ha lavorato con delle tecniche magari un po' più particolari rispetto ai soliti bianchi che adesso tutti più beviamo e conosciamo su un 60-40 quindi una preponderanza sempre della Garganega ma con questa nota più morbida, più elegante, un po' più accogliente forse dello Chardonnay anche a livello colore è sicuramente interessante Voi vi trovate in un colle almeno io sono stato lì qualche anno fa quindi ho questo bel ricordo di questo colle che domina Verona innegabilmente in un territorio come questo ad un'altitudine anche abbastanza significativa qual è il vantaggio che porta ai vini di Giovanni Ederle? Allora noi essendo quello che viene definita la zona delle torricelle di Verona che è la zona collinare proprio più vicina alla città di Verona e la zona dove ci troviamo noi che noi siamo tra la parte più alta quindi siamo tra i 250-260 metri sul livello del mare e troviamo anche un suolo calcareo argilloso con una buona componente anche di tuffo quindi molto interessante, magro a livello nutrizionale però con due componenti vitali per la produzione dei vini, il calcare e l'argilla che donano questi slanci, queste mineralità queste note fini a livello di profumi, di nasi, di bocca ai vini noi siamo esposti a sud, i vigneti guardano tutti a sud-ovest quindi il fatto di essere ben esposti, in radiazione solare meravigliosa quindi i vigneti sono baciati dal sole dalla mattina alla sera e questa brezza che scende giù dai monti Lessini dietro di noi che quindi aiutano sicuramente, ci aiutano in tanti tanti casi quindi anche a livello della viticoltura il problema di tanti parassiti, tante cose non si pone perché questa brezza costante tutto l'anno specialmente vitale d'estate quando c'è molto caldo ci aiuta in tante cose e poi noi siamo certificati biologici interamente dal 2016 quindi sicuramente era stato tutto pensato molto tempo fa il calcare e l'argilla ci aiutano in quel senso là tanto che poi ci donano dei vini con delle forti acidità delle grande beva ma poi fini ed eleganti quindi non vini eccessivamente orizzontali mettiamola così ma che si esprimono molte volte molto più in verticalità noi questa sera degusteremo come abbiamo già detto cinque vini ne mancherebbe uno ma è stato escluso da questo elenco ma evidentemente non abbiamo di cui lamentarci visto che sono comunque cinque bei rappresentanti anche del pensiero viticolo ma anche enologico di Giovanni Ederle iniziando dal primo e unico bianco di questa sera ma anche l'unico bianco oggi prodotto dalla cantina Donna Francesca è nata 2012 pertanto un vino che ha sei anni come nasce questo vino e soprattutto dopo sei anni cosa dobbiamo aspettarci? Donna Francesca porta il nome di una signora di una donna che è la signora Francesca la mamma di Giovanni un vino che è stato dedicato a lei da Giovanni la prima annata prodotta fu la 2010 e poi ha seguito diverse annate oggi assaggeremo la 2012 quindi questo 60 garganeghe e 40 di chardonnay un bianco che prende un'espressione completamente diversa dai bianchi che siamo abituati a bere nelle zone della Valpolicella nelle zone del Veronese perché si esprime con delle note ossidative di un certo tipo è lavorato anche in una certa maniera il Donna Francesca questo vino bianco che viene fermentato in acciaio ma segue una macerazione prima della fermentazione a contatto con le bucce quindi la possibilità di poter estrarre da quelle bucce la tessitura la struttura che poi andrà al vino una fermentazione abbastanza lunga in una trentina di giorni in acciaio naturale e dopodiché 18 mesi abbondanti di botti di rovere francese una botte grande quindi sui 10 ettolitri non tostata quindi in modo che però il legno non diventi preponderante ma che rimanga il vino pur espressione di se stessa la Donna Francesca una nota ossidativa preponderante all'inizio ma dopo sei anni la 2012 che noi riteniamo essere la nata più strepitosa del Donna Francesca quella che più di tutti racconta quello che Giovanni aveva in mente quando l'ha pensata il Donna Francesca si presenta appunto con questa nota ossidativa iniziale ma poi ci regala le tonalità del gesso la magnolia il miele la caccia il castagno quindi tutte note molte volute ma un vino morbido caldo e comunque con una tonalità alcolica di 13 e mezzo quindi interessante da quel punto di vista ma dotato di grande slancio quindi di grande beva un'acidità ancora molto alta un vino che nel bicchiere si fa sentire si racconta da sola la Donna Francesca decisamente e poi passiamo ai rossi quattro rossi in realtà sarebbero tre più il Reciotto che pertanto si annovera nella categoria dei vini dolci innegabilmente noi abbiamo appunto tre rossi abbiamo già detto che la composizione delle uve è per tutti lo stesso tranne in questo caso per l'amarone dell'annata che abbiamo questa sera perché ancora diciamo ha una differenza che poi vedremo rispetto alla nuova produzione partiamo dal Valpolicella Superiore abbiamo anche Valpolicella Superiore Ripasso racconteremo anche qual è la differenza anche produttiva di questi due vini ma iniziamo dal Valpolicella Superiore 2016 come nasce questo vino? Valpolicella Superiore sicuramente è uno dei vini che esprime meglio a nostro parere la Valpolicella è un vino comunque di casa per quanto riguarda la Valpolicella Superiore perché è un vino più strutturato rispetto al Valpolicella Doc che quindi prevede un gran alcolico che non sia inferiore ai 13 gradi e che abbia almeno un anno di affinamento il nostro Valpolicella Superiore è lavorato in maniera che venga che si esprima in finezza in eleganza ma senza essere troppo magro quindi un vino nel 2016 in particolare il 50% delle uve furono appassite per 30 giorni la restante 50% vinificate immediatamente fresche in acciaio dopo queste due fermentazioni il vino il Valpolicella Superiore è stato lasciato a riposare ed evolvere per un anno in botte da 10 ettolitri di rovere francese medio tostata e a seguire un leggero riposo in bottiglia in fase di stabilizzazione ovviamente è un vino che racconta tante cose è un vino che tende a cambiare molto è un vino che a noi ci entusiasma sempre di più la 2016 è stata comunque una bella annata che ha regalato delle grandi cose è un vino che si esprime in versatilità grande naso quindi la ciliegia il floreale e poi queste note tostate inizia a venire fuori la nota molto pepata sul finale quella ricorda molto la rondinella che inizia a esprimersi la radice della liquirizia quindi questo bouquet questa bocca molto interessante ma poi il Valpolicella Superiore in realtà si esprime in gentilezza in versatilità si abbina a tante cose vino di grande tessitura un vino che ha tanto potenziale di affinamento quello sicuramente è un vino che secondo me ogni tanto viene un po' sottovalutato ma che può essere può avere tanto 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 spazio è un vino che ti regala tantissime cose ogni anno di più assolutamente e poi abbiamo lo stesso vino si fa per dire perché evidentemente non può essere Valpolicella ripasso superiore stesse uve ma ovviamente immagino provenienti da un'altra porzione di terreno e che subiscono anche una lavorazione diversa come nasce questo vino? Il Valpolicella ripasso appunto prende il nome dalla tecnica dal processo con cui viene fatto quindi la tecnica di ripassare il vino su delle su delle vinacce nasce da una rifermentazione in vasca molto breve perché dura comunque sette giorni una settimana anche meno del Valpolicella che viene ripassato sulle vinacce dell'amarone in post fermentazione quindi queste vinacce che in realtà non sono del tutto esauste e che possono ancora dare molto ai vini regalano questo vino che poi seguirà un anno di affinamento in un tono da 5 ettolitri per un anno il ripasso si esprime sicuramente nelle notte già un po' più scure un po' più profonde rispetto a un Valpolicella superiore ma è la giusta connessione che esiste tra il superiore e l'amarone è un vino che nasce da appunto sempre da 50% corvina un 30% di corvinone e un 20% di rondinella quindi lo stesso assemblaggio che abbiamo sul Valpolicella superiore vini molto vicini da un punto di vista organolettico ma tecnicamente diversissimi molto distanti esatto il ripasso è un vino che è apprezzatissimo è un vino morbido caldo ma anche questo pronto da bere è un vino che ti soddisfa delle necessità il più delle volte perché l'amarone molte volte purtroppo può risultare troppo pesante eccessivo in un certo tipo invece il ripasso ti regala una bevuta molto interessante dandoti un vino di struttura e fresco comunque con una bella versatilità una buona freschezza e poi è stato citato passiamo all'amarone annata 2013 in questo caso e rispetto alle uve che abbiamo citato fino adesso qui in questa annata ne troviamo un'altra come nasce l'amarone di Giovanni Ederle 2013 Amarone 2013 che è stata un'annata veramente interessantissima l'amarone adesso veramente a distanza di 5 anni sta regalando delle tessiture pazzesche il 2013 è l'ultimo anno per quanto riguarda l'amarone che presenta un 5% di croatina quindi questo vignè questo vitigno che era stato piantato da Giovanni nel 2005 la croatina è questo non se ne voglia è un vitigno un po' secondario che quindi non rientra principalmente mai negli assemblaggi la croatina utilizzata perché aiuta nella spalla colore quindi dona molto colore a invece quelle che sono i vitigni tradizionali principali che in realtà colore ne hanno ben poco molte volte l'aiuto dell'appassimento l'amarone fa 100 giorni di appassimento non forzato quindi naturale su cassetti di legno vengono lasciate le uve selezionate quindi la selezione più alta perché l'amarone comunque è una di OCG quindi limiti di produzione più bassi vengono lasciate in cantina ad appassire naturalmente per 100 giorni dopodiché segue una fermentazione alcolica in acciaio di una quarantina di giorni quindi anche questo è un processo abbastanza lungo temperatura un po' più bassa in questo caso sui 16-18 gradi in modo da mantenerlo sempre molto fine che quindi non si esprima troppo in maniera troppo burbera mettiamola così dopodiché l'amarone 2013 ha fatto 18 mesi di rovere francese anche in questo caso da 10 ettolitri e poi 18 mesi di bottiglia il fatto l'amarone ha tre anni minimo di affinamento questo voler suddividere in in ugual modo l'affinamento in botte e in bottiglia ha dato la possibilità di evolvere il vino in maniera adulta in modo che comunque dia tutta la sua espressione nonostante sia giovane e 18 mesi di bottiglie in modo che rimanga anche questo con una buona acidità e molto fresco quello è la freschezza la versatilità è stata una sono state due cose che Giovanni più di tutti ha cercato di mantenere è una cosa che lui a cui tiene molto quindi il fatto di avere un vino come l'amarone che ha 16 gradi quindi un 16% di alcol svolto ma che allo stesso tempo mantenga un'acidità molto alta quindi un vino di grande beva di grande beva assolutamente l'amarone il 2013 che ha preceduto poi un'annata nel 2014 in cui non è stato prodotto la 2014 è stata un'annata che noi abbiamo saltato e quindi andremo poi direttamente al 2015 che presenterà l'assemblaggio di tutti gli altri quindi il 50 Corvina il 30 di Corvinone e il 20 di Rondinella e poi passiamo a quello che la storia racconta essere il progenitore dell'amarone cioè il Recioto poiché come tanti altri vini in Italia anche l'amarone deriva si dice appunto dal Recioto che invece era il vino tipicamente prodotto in questo territorio e che ancora lo si produce qui troviamo le tre uve la produzione non è così diversa dall'amarone però in realtà delle differenze ci sono ci sono delle differenze sul Recioto questo vino straordinario questo vino dolce che quindi più di tutti esprime le tecniche dell'appassimento perché è dolce quindi il fatto di dover concentrare i colori i profumi e le dolcezze del Recioto il Recioto che tipicamente deriva dal dialetto quindi dalle orecchie viene dalle recce come le chiamano nel veronese e quindi dalla selezione più bella del grappolo d'uva il Recioto che segue esattamente lo stesso procedimento dell'amarone fino alla fermentazione quindi 100 giorni di appassimento in cassetta di legno appassimento non forzato naturale dopodiché il Recioto viene fermentato va in pressa viene fermentato in acciaio ma segue poi un momento di arresto quindi in modo da poter fermare la fermentazione in modo che resti dolce il nostro Recioto Giovanni per tenere fede alla voglia di mantenere e di fare vini fini versatili e freschi il nostro Recioto fa semplicemente un anno di acciaio tra acciaio e bottiglia quindi in modo che la dolcezza e la concentrazione delle uve si esprima al 100% senza essere coperta magari dall'intervento di una botte che pur essendo grande ma che richiederebbe anche molti anni di affinamento il fatto di lasciarlo un anno in acciaio sicuramente regala delle grandi cose quindi tanta freschezza tanta pulizia il Recioto è interamente fermentato spontaneo con lieviti indigeni e anche non filtrato addirittura quindi è puro è la pura pura espressione delle tecniche antiche dell'appassimento del Recioto il Recioto è essere padre dell'Amarone esatto così la storia racconta io sono solito fare una domanda ai miei ospiti che troverà poco gentile ma non la sottrago a questo e che forse per lei è anche più facile rispondere in un certo senso visto che non è la persona che direttamente produce questi vini ma comunque partecipa innegabilmente tra tutti i vini prodotti da Giovanni Ederle qual è il suo preferito il Valpolicella superiore su tutti assolutamente è un vino che su cui Giovanni crede tantissimo è un vino che lui ama molto ama farlo e ama e ama berlo io lo vedo quando lui quando lo beve quando lo assaggia gli strappa sempre un sorriso perché effettivamente è quello che più di tutti ha regalato delle grandi cose delle cose forse anche inaspettate i vigneti giovani Giovanni comunque è molto giovane quindi questa realtà questo evolversi il Valpolicella superiore ha dato forse la giusta fiducia la giusta è stato quello che ha confermato il percorso di Giovanni a livello produttivo incalalandolo in quello che sicuramente sarà sarà il futuro il Valpolicella superiore quando lui parla di vino il più delle volte parla del Valpolicella superiore che poi alla fine è un vino che tutti noi amiamo anche io personalmente e anche la famiglia quindi è un è il vino che più di tutti lo rispecchia anche come persona assolutamente sì assolutamente voi vi trovate in località Torricelle dicevamo in questo colle bellissimo che domina Verona dall'alto qualora i nostri amici che ci stanno ascoltando volessero fare visita alla vostra cantina se questo è possibile come allora la cantina si trova appunto su questa zona delle Torricelle che è vicinissima perché è a 5 minuti della città quindi addirittura si può dalla cantina si può scendere a piedi tramite gli olivi in 30 minuti a piedi quindi anche d'estate chi si vuole fare una mezza scampagnata è simpatica perché no vicinissima siamo a Verona e la cantina ovviamente che è connessa all'agriturismo il Corte San Mattia che è stato aperto nell'86 che quindi ha una storia più lunga rispetto alla realtà produttiva dell'azienda di Giovanni quando noi siamo aperti sempre quindi la cantina tra l'altro adesso è in fase di completamento quindi sarà del tutto nuova è una cantina interrata costruita sotto la casa di famiglia sono in arrivo dei nuovi alloggi quindi siamo arrivati ad avere il pacchetto completo chiamiamolo così le porte delle torricelle del San Mattia sono sempre aperte a chiunque siamo sempre là perfetto quindi immagino ha telefonato comunque un contatto anche via mail ed è possibile concordare comunque una visita certo le visite anche le visite in cantina noi le svolgiamo tuttora quindi visite di degustazione che sono sempre abbinate anche al cibo perché avendo l'agriturismo l'agriturismo produce il 60% minimo del prodotto che viene consumato noi non produciamo l'azienda non produce solo vino produce olio olio extravergine d'oliva DOP quindi anche questo completamente biologico e dalle marmellate alle mostarde il miele che è un altro prodotto importantissimo dell'azienda perché le api a noi ci aiutano tantissimo in viticoltura e quindi il fatto di poter venire ad assaggiare prodotti tipici locali la cucina fatta in casa la pasta il pane tutto quello che concerne la cucina veronese abbinati ai vini del veronese di Giovanni su una terrazza tra l'altro straordinaria in vista adige in vista adige in vista città centro storico siete tutti invitati perfetto io comunque suggerisco ovviamente essendo stato appunto lì insomma la vista vale senz'altro il viaggio innegabilmente a parte i vini che sono comunque interessanti bene io concluderei qui grazie Manuel Sorrentino per essere qui con noi questa sera a raccontare i vini di Giovanni Ederle e di quello che fa Giovanni Ederle questa sera parleremo di Valpolicella appunto dei vini che abbiamo raccontato poco fa e ovviamente non mi resta che ringraziare di nuovo Giovanni Ederle che saluto questa sera non è con noi ma parleremo molto di lui innegabilmente ringrazio ancora Manuel Sorrentino e un saluto a tutti voi l'appuntamento per il prossimo mese a dicembre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti